Passiamo ora a Jesolo e per la domenica di Pasqua dovrebbe essere pronta e funzionante la nuova ruota panoramica che sarà la principale attrazione della prossima stagione estiva jesolana. La grande ruota panoramica realizzata dalla società The Wheel con i suoi 55 metri di altezza richiesta un investimento tra i 6 e i 7 milioni di euro e sarà posizionata in piazza Brescia vicino al Pala Arex.